Se vuoi iniziare a vendere sul tuo e-commerce, hai bisogno di investire tanto. Ciao a tutti, io sono Paolo Santanicchia, sono un Meta Ad Specialist, quindi mi occupo di creare, lanciare e gestire pubblicità su Meta, quindi Facebook e Instagram, per varie aziende, poiché appunto sono un libero professionista, collaboro con più realtà. E oggi voglio parlare di un presupposto che è fondamentale per comprendere al meglio quelle che sono le sfide di un settore che è cresciuto tantissimo negli ultimi anni e di cui ovviamente sono nati anche tantissimi falsi miti e tantissimi sedicenti esperti di e-commerce che ti promettono con un investimento minimo di iniziare a vendere sul tuo e-commerce. Quella che però è una triste e dura verità è il fatto che per fare e-commerce nel 2024 hai bisogno di investire tanto. E più avanti ti spiegherò il perché dico investire tanto e non investire tanti soldi, che sono due cose diverse e di cui voglio entrare nel dettaglio più avanti. Essendo io un esperto di pubblicità non voglio entrare in discorsi che non mi competono come può essere ad esempio l'e-commerce, la ricerca del prodotto, la ricerca di un corriere per spedire, quindi non andrò nel dettaglio di ciò, ma considera che anche per fare un sito web, per mettere tutto in piedi, una struttura di un e-commerce, anche se è in dropshipping, avrai bisogno di un investimento iniziale, questo è sicuro. Nell'area comunque che mi compete, che è quello delle pubblicità, vedo tantissimi falsi miti e tantissime persone che non hanno ben capito o sottovalutano quello che è effettivamente la competizione e il mercato pubblicitario sui social nel 2024. Mi scrivono infatti ogni giorno tantissimi ragazzi, ma non solo, anche tantissimi adulti che hanno una propria attività, magari offline già da moltissimi anni, e che vogliono aprire un loro e-commerce, aprire un proprio store online e credono di poterlo fare investendo 5-10 euro al giorno in pubblicità, perché tanto siamo sui social e tanto non costano sicuramente quanto la pubblicità in televisione. Sì, sicuramente la pubblicità sui social è più economica tendenzialmente rispetto a quella che può essere la pubblicità in televisione, ma questo non significa che possiamo spendere 5-10 euro al giorno e aspettarci un ritorno sull'investimento immediato. Purtroppo, o per fortuna, per fare un business online dobbiamo investire tanto e se non abbiamo la possibilità di investire tanti soldi, dobbiamo investire tanto tempo. Voglio prima focalizzarmi su quest'ultima parte, ovvero l'investire tanto tempo, poiché credo che sia fondamentale sia un qualcosa che le persone sottovalutano. Quindi, prima di parlare del perché investire 5-10 euro al giorno non sia sufficiente, voglio parlarti appunto di come puoi investire al massimo il tuo tempo per iniziare a vendere sul tuo e-commerce o iniziare a vendere sulla tua attività che vuoi sponsorizzare appunto sui social. E per farlo ti racconto l'esempio di un potenziale cliente che mi ha scritto qualche giorno fa e mi ha chiesto appunto di gestire le campagne pubblicitarie su Meta per i loro prodotti di bigiotteria che al momento stanno vendendo offline da decenni. È un'azienda di famiglia, quindi diciamo abbastanza consolidata. Mi hanno chiesto se si potesse partire con 5-10 euro al giorno di investimento pubblicitario, al che li ho subito fermati e anche se andava contro i miei interessi, poiché appunto non avrei chiuso il contratto o comunque un accordo con questo cliente, io ho detto di lasciare stare e assolutamente di non pensare di investire meno di, avevo stimato, 4-5 mila euro al mese in pubblicità per vendere questi prodotti in tutta Italia. A che il cliente mi ha gentilmente e anche in maniera molto intelligente risposto ok, io al momento non ho questo budget pubblicitario da investire, investirò del tempo per creare dei contenuti, per creare un seguito appunto tramite i social organici, tramite Amazon e tramite altre tecniche che mi ha detto, così che poi sarò pronto e avrò abbastanza budget da poter investire per le pubblicità su Meta. Questo è stato un approccio che ho apprezzato tantissimo ed è un qualcosa su cui noi possiamo imparare. Infatti l'investimento di tempo è un investimento che molti sottovalutano ma che può avere nel lungo termine dei buoni riscontri. Infatti se non abbiamo la possibilità di investire tanti soldi che ci permettono di farci conoscere da tante persone il prima possibile, dobbiamo investire tanto tempo nella creazione di contenuti organici, di store su Amazon, di altre tecniche di promozione in maniera gratuita ma che ovviamente richiedono moltissimo tempo e richiedono moltissimo tempo non solo nel breve termine poiché dovremo lavorare molte ore per la creazione di contenuti, dovremo lavorare molto tempo nella ricerca di parole chiave, per lavorare sul posizionamento SEO su Google, per lavorare sulla creazione di contenuti che siano pertinenti per il nostro pubblico, per cercare di andare virali e un'altra serie di tecniche che richiedono tanto tempo adesso. Bensì abbiamo bisogno anche di tanto tempo nel lungo termine, quindi in maniera continuativa, poiché dovremo farci conoscere senza mai spendere in pubblicità poiché appunto non abbiamo il budget per farlo e questo richiede molto tempo investito nella pubblicazione costante di questi contenuti. Possiamo farci scoprire comunque in quel modo? Sì, sarà molto più difficile e soprattutto ci vorranno molti più mesi e anni per iniziare a vedere dei riscontri. Parliamo invece del perché non possiamo spendere 5 o 10 euro al giorno di pubblicità su Meta. Il motivo è molto semplice, moltissimi brand, anche i più grossi, anche quelli più affermate, anche quelli con reputazioni ed esperienze decennali, si stanno già da anni ormai sponsorizzando e pubblicizzando su questi social. Il fatto di avere a parità di placement, ovvero a parità di spazi media che Facebook ci vende, se abbiamo più competitor o comunque più persone che spendono dei soldi per mostrare le proprie inserzioni su quegli spazi pubblicitari, i costi pubblicitari di conseguenza si alzano. È la normale legge di mercato della domanda e dell'offerta. Il problema è che moltissime aziende, anche le più piccole, le più grandi, le medie, quelle piccole che diventano grandi, si stanno già sponsorizzando su Facebook da tantissimo tempo e continuano ad aumentare, basta guardare i bilanci di Facebook ogni anno che sono sempre crescenti e moltissimi più brand e aziende si stanno sponsorizzando sui social. Ed è per questo motivo che non possiamo pretendere di spendere 5-10 euro al giorno poiché facendo dei rapidissimi calcoli con 5-10 euro al giorno raggiungiamo dalle 1000 alle 2000 impression su Facebook in Italia. Quindi se stiamo sponsorizzando in Italia, noi con 5-10 euro mostreremo il nostro annuncio di fronte a circa 1000-1500-2000 persone. E dobbiamo anche renderci conto del fatto che una visualizzazione su Facebook o su Instagram può equivalere anche a qualche millisecondo. Basti pensare appunto a quando le persone consumano i contenuti sui social network, sono molto frenetici, sono distratti, probabilmente non saranno nemmeno in target le prime persone che vedranno le nostre pubblicità e quindi di conseguenza per vederne dei risultati che siano statisticamente rilevanti, anche qui avremo bisogno di tantissimi mesi se non addirittura anni per poter giungere a delle conclusioni. Ma quali conclusioni dobbiamo giungere quando facciamo delle pubblicità e perché abbiamo bisogno di tanto investimento? Perché non è una questione solo di avere un ritorno che avvenga il prima possibile. Abbiamo anche bisogno di testare e abbiamo bisogno di validare le nostre idee. Infatti quando iniziamo a fare delle pubblicità su Facebook e Instagram dobbiamo fare dei test. Questi test sono dei test che facciamo appunto sulla comunicazione, quindi il presentare il nostro prodotto sfruttando determinati angoli emotivi. Quindi ad esempio sfrutteremo l'angolo emotivo della felicità producendo delle pubblicità che puntino sull'emozione della felicità, puntino sul far sentire felici le persone, puntino sulla felicità che le persone possono avere nell'acquistare il nostro prodotto o servizio. Possiamo farlo sulla paura, possiamo farlo sulla preoccupazione, possiamo farlo su tantissimi angoli emotivi o angoli di comunicazione differenti. Per fare questi test appunto c'è bisogno di budget, abbiamo bisogno di budget per poter mostrare questi contenuti, queste pubblicità ad un numero di persone che sia statisticamente rilevante, poiché appunto non possiamo investendo 10 euro convenire che un certo angolo di comunicazione sia più efficace di un altro, poiché avremmo mostrato le nostre inserzioni ad un bacino di utenza troppo piccolo per poter giungere a delle conclusioni e per poter allineare la nostra strategia di comunicazione e strategia pubblicitaria nei mesi successivi per appunto avere un ritorno sull'investimento che sia il più prevedibile ed efficace possibile. E soprattutto ci serve il budget per mostrare le nostre pubblicità ad un pubblico che sia sufficientemente grande per poter sia dare a meta un'idea di chi è il nostro pubblico e migliorare sempre di più la pertinenza dei nostri annunci e sia a noi pubblicitari per comprendere al meglio a quale messaggio, a quale comunicazione il nostro pubblico risponde maggiormente e quindi di conseguenza aumentare i profitti più velocemente possibili e magari in maniera esponenziale e non più lineare cosa che succede su tantissimi clienti e vi assicuro che ho lanciato tantissimi brand di miei clienti ovviamente anche partendo da zero e di budget vi assicuro che ce n'è bisogno. Se non abbiamo il budget per iniziare dobbiamo investire tantissimo tempo per costruirci dei asset, delle risorse che possiamo poi sfruttare a nostro vantaggio quando avremo il budget per fare delle pubblicità che quindi possono essere una community su Instagram, una community su Facebook, una community su TikTok o qualsiasi social su cui noi ci sentiamo particolarmente a nostro agio e vediamo che abbiamo abbastanza domanda da poter investire con più sicurezza il nostro budget pubblicitario. Se questo video ti è stato utile fammelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti altri video a tema pubblicità online e pubblicità su Meta. Io spero che questo video ti sia stato utile rimaniamo in contatto sui principali social scegli il tuo preferito che vedi qui da qualche parte e scrivimi poiché rispondo molto volentieri alle domande che mi vengono poste se riesco ad aiutare, se posso aiutare ma soprattutto ci vediamo al prossimo video. Ciao e grazie per aver guardato fino a qui.